La vertiginosa espansione degli scambi commerciali, le innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni e dei trasporti, l'aumento degli spostamenti e delle relazioni tra le persone di paesi e continenti lontani hanno contribuito a trasformare la maggior parte del mondo in un unico villaggio globale dove le distanze si sono improvvisamente accorciate. In questo nuovo mondo globalizzato non solo le merci ma anche le culture, le tecnologie, le lingue, le idee, gli stili di vita, le mode si spostano, si cambiano, si mescolano e si confondono superando i confini degli stati e gli oceani. La globalizzazione è nata nel campo dell'economia grazie alla politica del liberismo, seconda la quale è necessario togliere qualsiasi ostacolo alla circolazione delle merci tra i paesi del mondo, ma anche promuovere attivamente il commercio internazionale. Per estendere il libero commercio vengono istituiti accordi di libero scambio tra gli stati che prevedono l'abolizione dei dazi per le merci provenienti dai rispettivi territori. Tra i paesi si è deciso di istituire quindi aree di libero scambio come ad esempio l'Unione Europea, il NAFTA che è un accordo di libero scambio nordamericano tra Stati Uniti, Canada e Messico e poi l'Organizzazione Mondiale del Commercio o WTO che è un'agenzia dell'ONU che supervisiona e favorisce la liberalizzazione dei commerci. La globalizzazione dei commerci e la creazione di aree di libero scambio hanno portato alla nascita di un nuovo tipo di impresa, le multinazionali, che distribuiscono le proprie attività in molti stati che possono trovarsi anche in continenti diversi per sfruttare al meglio ciò che ciascun paese può offrire in quanto a leggi, materie prime, costo del lavoro o altri aspetti. Ma il bene più prezioso di una multinazionale è il brand, cioè il nome e il marchio con cui è conosciuto in tutto il mondo. Al centro del mondo globalizzato ci sono i paesi più avanzati. Qui si trovano le città globali, dove hanno sede legale le multinazionali e dove gli organismi politici ed economici internazionali decidono il destino del mondo. Esempi di città globali sono Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Londra, Singapore, New York, Zurigo. Nelle periferie invece ci sono interi paesi o regioni in cui la globalizzazione si manifesta solo nei suoi aspetti negativi, quali sfruttamento indiscriminato delle risorse naturale e dei lavoratori, danni all'ambiente e perdita dell'identità culturale delle popolazioni locali. Si trovano in questa problematica condizione molti stati dell'Africa, vaste regioni dell'Asia e dell'America meridionale.